nell'istituto di patologia generale io innanzitutto al centro di tutto credendo unicamente nella mia ragione come spiegazione di tutto fino a quando non fui assunto nell'istituto di patologia generale dell'università e lì eseguendo le autopsie mi fece una domanda che fu la prima a rompere il guscio del mio ateismo la domanda era è possibile che solo il meccanismo del corpo produca la vita e che se la vita si ferma per la rottura di un organo siccome non si vede l'anima che esce siccome non si può prenderla a volo si deve concludere che tutto è riposto nella proprietà della materia commento davanti ad un cadavere si può pensare che dell'essere che ha vivificato quel corpo non rimanga che un oggetto di carne inanimato se invece si pensa che quell'oggetto non è altro che uno strumento un veicolo che ha permesso all'essere di vivere nel piano fisico si può intuire che abbandonato quel veicolo l'essere viva in un altro piano di esistenza abbia spostato la sua consapevolezza in un'altra dimensione in una sottigliezza di materia maggiore di quella del piano fisico questa maggiore sottigliezza è il piano astrale grazie a tutti grazie a tutti